Bentornati al canale giornalismo del cuore Italia 1. Con le ultime novità di oggi Silvia Toffanin, la famiglia Berlusconi si allarga, sono tutti al settimo cielo Gli ultimi scatti della famigliola lasciano davvero senza parole e mostrano una lieta novità Silvia Toffanin.La famiglia Toffanin Berlusconi si allarga, arriva una lieta notizia per la conduttrice di Verissimo Sono tutti super entusiasti.Grande sorpresa per la famiglia Toffanin Berlusconi Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più longeve dello showbiz italiano Insieme dal 2002, sono ancora oggi inseparabili. Genitori di due bambini, Lorenzo Mattia nato il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina nata invece il 10 settembre del 2015, sono un modello di perfetta famigliola Toffanin e Berlusconi.La Toffanin sta vivendo, da un punto di vista professionale, un momento davvero idilliaco I vertici media sete sono stati così contenti del suo operato in questi anni che hanno deciso di raddoppiare l'appuntamento di Verissimo, il format di intrattenimento che Silvia conduce da tanti anni, aggiungendo anche l'appuntamento domenicale Tra l'altro, proprio recentemente, la compagna di Pier Silvio Berlusconi è stata conduttrice per una settimana del noto TG satirico, striscia la notizia insieme ad Ezio Greggio I fan sono stati contenti di averla vista anche dietro al famoso bancone Mediaset Toffanin.Insomma, la Toffanin non si può proprio lamentare, sta vivendo un periodo d'oro sotto ogni punto di vista, anche quello privato A tal proposito, arriva una lieta notizia, la loro splendida famiglia si allarga Silvia Toffanin al settimo cielo, la famiglia si allarga.Arrivava una lieta notizia per la famiglia Toffanin Berlusconi La loro già splendida famiglia si allarga Che bella sorpresa, sono tutti al settimo cielo.Conduttrice di Verissimo Se state pensando che la conduttrice di Verissimo sia in attesa del terzo bebè, dobbiamo purtroppo frenare il vostro entusiasmo La compagna di Pier Silvio Berlusconi non è incinta ma la coppia ha colto nel proprio nucleo familiare un nuovo componente Si tratta di Peluche, il cagnolino di pezza che per una settimana ha tenuto compagnia a Silvia mentre era alla conduzione del noto TG satirico insieme ad Ezio Greggio Peluche è un cagnolino regalatole come portafortuna da Greggio per il ritorno, dopo anni, della conduttrice, dietro al bancone più famoso d'Italia Silvia Toffanin punto dopo una settimana trascorsa a Striscia, la compagna di Pier Silvio, ha chiesto il consenso al conduttore di portare ai suoi bambini il cagnolino che ha rappresentato la mascotte durante sua avventura come conduttrice del TG satirico Il suo desiderio è stato esaudito.La Toffanin e Berlusconi sono stati beccati nei giorni scorsi a Portofino, in compagnia dei loro figli e di Peluche Il cagnolino di stoffa è nelle mani della piccola Sofia Valentina che, da quando la mamma glielo ha donato, non ne può fare più a meno e lo porta sempre con sé Le foto mostrano una famiglia gioiosa e felice, il quadretto è davvero bellissimo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video